Popolo del trading, allora, venerdì 27 aprile 2018, 124 giorni al compimento della missione di Fabriforex. Allora, sono molto contento, chiaramente sono quasi delle scalpate quelle che vedete e aspetto di mirare per quanto più si possa giusto e poi compenso con i lotti di ingresso, chiaramente. Quindi questa è la mia filosofia, anche perché prima o dopo si riuscirà a prendere, sempre con stop loss adeguati, questa settimana non penso di aver mai superato i 12-13 pips, 14 pips di stop, sul quale vai a mettere la tua percentuale. Questa settimana mi faccio un altro più 3%, la scorsa settimana avevo fatto un 4,5%, quindi direi interessante, direi assolutamente interessante. Allora, questa settimana ho lavorato molto sull'armonia dei cicli, ti lascio con anche l'analisi che ho fatto stamattina e che ho usato per fare lo short che vedi, sostanzialmente. Quindi è segnato, sì, il 27, short a 71,6, stop loss 84,8 e poi l'ho chiuso a 1,64, una parte a 64,1, l'altra a 67,3, eccetera, eccetera. Anche perché avevo già nell'analisi anticipatamente detto che era uno short in velocità perché mi aspettavo un'aritmia e puntualmente è arrivata. Quindi siccome sto lavorando anche su nuovi livelli bancari, che tra l'altro ragazzi e ragazze chi li sta usando in trading room, altra settimana anche lì di profitto. Io mi arrabbio, lo dichiaro spassionatamente in trading room, cioè veramente come ha detto il buon Massi che saluto anche da qui, bisognerebbe avere 10 cervelli, 20 occhi, cioè ho tantissima roba buona, mi arrabbio che non la si può usare in simultanea tutta quanta, dedicando anche la parte didattica sostanzialmente, praticamente in tempo reale, analisi in tempo reale, trading in tempo reale, tutto in tempo reale, più altri progetti, insomma, arrivo sempre abbastanza tirato e stanchetto alla fine della settimana. A volte anche già il lunedì pomeriggio sono stanco. Non è una lagna, non è una lamentela e così allora per adesso mi accontento di questi pochi pips pesanti. Detto questo, chiaramente lavorando sui livelli bancari sto cercando di filtrarli, benché a priori lavorino già bene, sto cercando di filtrarli con un pattern che mi sembra molto interessante e che dà una buona anticipazione di esplosione di volatilità. Questa mattina, porca pupazza, me la sono persa l'esplosione di volatilità in short di euro-dollaro, dove per me un'esplosione di volatilità sono 12-15 pips, però infatti con un bel po' di lotti, insomma, va benissimo. Io sto andando bene, mi va bene, si potrebbe fare di più, chiaramente, però si può sempre fare di più e come dice il buon Pietro, tutto è perfettibile e ha ragione. Quindi, detto questo, ti ringrazio per l'attenzione, diciamo che magari mi viene più facile fare un video di chiusura settimanale, queste sono state le operazioni che ho fatto in diretta questa settimana. Splitto sempre, chiudo quasi tutto, 80-90% sul primo click che faccio dopo essere entrato e chiaramente poi tengo un 10-20% e poi a volte lo splitto ancora, eccetera, eccetera. Ripeto, con questi pips che vedete, fate presto a capire come stia entrando. Ho fatto circa il 3% in realtà, sto facendo i conti con le dita, forse un 3, qualcosa, 3,1, 3,2, quindi fai in fretta a capire un attimino che ordine di grandezza ci stia dietro le operazioni come capitale in percentuale. Detto questo, prossima settimana mi piacerebbe aumentare ancora un po' l'esposizione e mi piacerebbe riuscire a prendere qualche esplosione di volatilità. Detto questo, ti faccio vedere dove, adesso abbiamo fatto anche l'analisi qua sul dato americano, vi garantisco che è una figata, una goduria, armonizzare il tutto, ciclo dei massimi e ciclo dei minimi, perché dopo vedrai l'analisi che ho fatto in diretta questa mattina, prima che il grafico fosse disegnato. E poi ho trovato, io oggi ho fatto praticamente questo ingresso qui, short, praticamente io questa mattina sono entrato short qui, non ho WSIP a disegnare di qui su questo schermo, comunque sono entrato al breakout qui sotto e il target chiaramente era proprio questa zona qui. detto in anticipo, quello è quello che passava al convento. Poi, diciamo, verso pranzo stavamo parlando con Pietro, ma chi ha replicato l'analisi che avevo fatto in anticipo aveva un buy e il buy io l'avrei fatto scattare da qui sopra. l'avrei fatto scattare da qui sopra, quindi da qui un pip sopra, insomma da qui sopra, da qui mi sarebbe andato contro di 4-5 pips, quando me ne dava qua 4-5 avrei splittato, stop a 0, eccetera. Perché veramente con il modello che ho intercettato si devono prendere delle esplosioni di volatilità, tipo quello che porca paletta ho segnato stamattina e che non ho fatto perché è l'orario in cui sto praticamente prendendo parole in trading room e quindi stavo aspettando. Sostanzialmente l'ingresso era qui sotto. Quindi quando si trova l'armonia ciclica, con 4 cicli che sto usando, 2 dei massimi e 2 dei minimi, da lì c'è l'esplosione di volatilità e quindi qui diciamo che entrando un pip qui sotto, quindi intorno agli 82, arrivando qui a 6-7, chiaramente magari avrei già anche splittato, però poi vedete effettivamente poi una quindicina gli ha dati. Quindi se riesco la prossima settimana a prendermi 1-2 trade così, vado a bomba proprio. Allora, grazie per l'attenzione, se ti interessa, adesso alleggo a questo video l'analisi che ho fatto in diretta questa mattina. Buona continuazione, poi non devo guardare questo grafico perché anche ieri porca paletta avevo dichiarato un segnale proprio che molti stanno usando sul DAX e è veramente profittevolissimo. Eccolo qua, questo trade qui l'avevo dichiarato in anticipo lunedì. Poi, adesso qua devo spostare un po', così, che si veda anche sotto. E poi però, vuoi una cosa, vuoi un'altra, dopo un po' di ore di parlato, eccetera, eccetera, niente, qui si sono tirati i rendimenti, io simulo un long dalla close lì, quando i rendimenti ritornano a 0 e io sono sotto, a quel livello là, di lì c'è uno short con target nuovi minimi, ed era una dozzina di pips o qualcosa del genere, con stop 1 a 1 e se ne fanno veramente tante, tante giuste. Anche conferma vostra di chi le sta facendo queste cose sul DAX. Quindi, grazie per l'attenzione, ripeto, ti lascio con l'analisi di stamattina. A lunedì, e poi, ripeto, con aggiornamenti anche per la prossima settimana, sicuramente, ogni giorno mi piacerebbe farli, ma, tra una cosa e l'altra, magari mi concedo anche un po' di riposo a fine giornata, e quindi magari questi video li faccio come ho fatto adesso, di venerdì, pomeriggio. Grazie, e a bomba, ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora vado sul 15 minuti, ed è da lì che mi dice, guarda, aspettati ancora un'aritmia, perché questa prima salita dovrebbe essere solo il mezzo ciclo, e siccome c'è spinta su questo ciclo dei massimi, è pacifico attendersi almeno il doppio massimo, il che vuol dire aritmia, dopodiché quarta gamba, sia sul ciclo dell'M15, sia sull'orario, e allora finalmente questa dovrebbe essere buona, per provare un long. Un long che se faccio voglio innescare con un pattern che ho notato sui livelli bancari interessante, chiaramente stop, dovrò starci dentro ai 10-12 pips, chiaramente ha maggior ragione che venerdì, se mi dà 4-5-6 pips non la perdo più. Il pattern che ho trovato ad innesco dà molte volte un aumento di volatilità, quindi chiaramente ho ragionato sulla compressione e espansione del range, che è fondamentale, quindi tendenzialmente entro su una compressione, e quindi prima o dopo spero di riuscire a prendermi delle espansioni. Va bene ragazzi e ragazze, questo è il quanto, poi vediamo come si evolve la giornata, in questo momento provo a mettermi in discussione ancora, del tipo Fabri ma allora questa salita che non è credibile, che sarebbe la chiusura del mezzo ciclo, non potremmo provare questo long e quindi questo short? ci potrebbe anche stare, soprattutto...